Il cerchio e la sfera hanno rappresentato due problemi ostici della geometria antica. Simbolo di perfezione e simmetria, sono rimaste per secoli due figure misteriose, le cui proprietà sono state in vano indagate dai matematici del passato. Sarà uno scienziato greco a fornire finalmente una descrizione esatta di queste figure e a scoprire le loro formule principali, riuscendo là dove gli altri studiosi avevano fallito. È Archimede, vale a dire il più grande scienziato dell'antichità. Archimede in particolare inventa un metodo per calcolare con precisione le prime cifre del pi greco, una costante fondamentale della matematica, per poi individuare le formule con cui ottenere l'area del cerchio e il volume di una sfera. Ma il suo ingegno non si pone limiti, e così le sue intuizioni. Dimostra la quadratura della parabola, si interessa ai grandi numeri, scopre nuovi solidi e sperimenta un metodo matematico che anticipa di duemila anni il calcolo infinitesimale. Genio versatile, teorico e sperimentatore al tempo stesso, Archimede è un protagonista indiscusso della cultura universale, capace di rivoluzionare per sempre il pensiero umano, dando un contributo fondamentale alla conoscenza del mondo. Nel 214, prima della nostra era, durante la seconda guerra punica, i romani arrivarono in Sicilia e strinsero da sedio Siracusa. La città cadde due anni dopo, ma nel frattempo i romani incominciarono a conoscere un dottor stranamore che aveva fornito al tiranno di Siracusa quelle che oggi sarebbero chiamate, con un'espressione che ormai è diventata di moda, armi di distruzione di massa. Tutta una serie di fuochi di artificio che erano dovuti a quello che è probabilmente il più grande scienziato dell'antichità e che insieme a Newton e ad Einstein costituisce la trilogia delle grandi menti della matematica. Stiamo parlando di Archimede, un nome che è noto a tutti, naturalmente l'abbiamo sentito nominare fin da quando eravamo bambini, anche per tante altre scoperte che ha fatto il famoso Eureka, Eureka ho capito, ho trovato. Ecco questo è un po' l'archetipo diciamo così dello scienziato anche un po' svanito, in qualche modo coinvolto tra l'altro col potere politico e con l'uso militare anche delle scoperte scientifiche. Però a noi interessa naturalmente la mente di Archimede, cioè capire che cosa Archimede ha fatto nel corso della sua vita e come i suoi risultati hanno cambiato la matematica. Archimede è considerato uno dei massimi scienziati della storia. Nato a Siracusa all'inizio del III secolo a.C. completa la sua formazione in Egitto ad Alessandria, una delle capitali culturali del mondo antico. Tornato a Siracusa, Archimede si dedica intensamente agli studi, cimentandosi in tutte le branche della scienza, dalla matematica alla fisica, dall'ottica all'astronomia. La sua fama è legata soprattutto alle scoperte rivoluzionarie compiute nel campo della geometria e dell'idrostatica, cioè la disciplina che studia l'equilibrio dei fluidi. Uno degli aneddoti più famosi sul suo conto è appunto legato a una legge fondamentale dell'idrostatica, che spiega la ragione del galleggiamento dei corpi. Archimede l'avrebbe intuita immergendosi in una vasca piena d'acqua e osservando il modo in cui saliva il livello del liquido. Eccitato dalla scoperta, sarebbe saltato fuori dalla vasca esclamando Eureka! Ho trovato! Le ricerche del geniale scienziato non si limitano solo al campo teorico, ma trovano spesso un'applicazione pratica. Sono infatti numerosi gli strumenti tecnologici progettati, per esempio la vite senza fine, le ruote dentate e la carrucola mobile. Così come le invenzioni in ambito militare, innanzitutto i celebri specchi ustori, usati nella Seconda Guerra Punica dall'esercito di Siracusa per difendersi dalle navi romane. È proprio a quel periodo che risale la morte di Archimede, circondata da un alone di leggenda. Si racconta che durante il saccheggio della città, un soldato romano entrò nella casa dello scienziato, ordinandogli di seguirlo immediatamente. Per non interrompere la dimostrazione di un problema a cui stava lavorando, Archimede rifiutò di obbedire, scatenando l'ira del soldato che lo uccise. Una morte emblematica, che alimenta la fama di uno studioso appassionato e instancabile, simbolo dell'ingegno umano e dell'amore per la scienza. La matematica greca era stata descritta, l'abbiamo parlato a lungo, da Euclide negli elementi, quest'opera mastodontica, monumentale, che riassumeva un po' tutto ciò che era stato fatto nei secoli precedenti. Però anche Euclide aveva naturalmente le sue limitazioni. Molte cose che poi oggi noi studiamo, molti risultati, molti concetti, molte figure della geometria e non solo, anche dell'aritmetica, in realtà non sono negli elementi di Euclide. Il libro di Euclide si concludeva nell'ultimo capitolo, il tredicesimo libro, con uno studio dei solidi regolari. Però stranamente si parlava poco nel libro di Euclide delle due figure più comuni della matematica, cioè da una parte il cerchio e dall'altra parte la sua versione tridimensionale, la sfera. Oggi basta chiedere a un bambino delle elementari, delle medie, qual è l'area del cerchio, qual è la superficie o il volume della sfera e tac, automaticamente saltano fuori delle formulette, che tutti abbiamo imparato a memoria, ma che se dovessimo dire come sono state dimostrate e da chi soprattutto, forse non sapremmo rispondere. Ebbene, è stato proprio Archimede che ha fatto fare un passo avanti nella matematica allo studio di queste figure. I greci si erano soprattutto concentrati sui poligoni e sui solidi, cioè su oggetti che avevano lati, rettilinei e facce anche piane, mentre invece il cerchio e la sfera sono oggetti più complicati perché hanno dei bordi rotondi o perlomeno curvi. Che cosa si sapeva ai tempi di Euclide del cerchio e della sfera? Si sapeva grazie a un grande scienziato dell'antichità che si chiamava Ippocrate, che non era il medico, era solo un suo omonimo, ma che comunque era altrettanto degno di essere ricordato nella storia del pensiero, dell'umanità, perché Ippocrate fu colui che dimostrò praticamente quattro teoremi, quattro teoremi fondamentali. Due riguardano il cerchio e due riguardano la sfera. Il primo ci dice che c'è una costante che lega il raggio del cerchio con la circonferenza. In altre parole c'è un numero fisso che ci permette, moltiplicato per il raggio, di calcolare qual è la lunghezza della circonferenza. C'è un secondo numero che ci permette di calcolare l'area del cerchio, però questa volta non moltiplicata per il raggio, che è una misura di lunghezza, ma moltiplicata per il raggio al quadrato, che è una misura appunto di superficie. C'è una terza costante che ci permette di calcolare la superficie di una sfera, sempre moltiplicata per il raggio al quadrato, che è la misura della superficie, e c'è una quarta costante che ci permette invece di calcolare il volume della sfera, questa volta moltiplicandola per il raggio al cubo. A priori niente ci dice che queste quattro costanti siano legate fra di loro. Potrebbero essere quattro costanti separate, indipendenti fra loro, niente ci assicura appunto che non lo siano. Beh, è stato Archimede che è riuscito a fare quella che i fisici chiamerebbero oggi, e che è il loro sogno, la grande unificazione. Capire che questi quattro numeri, che Ippocrate aveva dimostrato esistere, ciascuno nel suo ambito, circonferenza, area del cerchio, superficie e volume della sfera, queste quattro costanti sono legate fra loro ad un'unica grande costante che appunto le unifica tutte, che è il famoso pi greco, sul quale avremo molto da dire. Uno dei lavori più famosi di Archimede, che ci è arrivato purtroppo incompleto, si chiama la misura del cerchio e affronta il problema di misurare appunto il cerchio. Qualche cosa è noto del cerchio, cioè il raggio, e Archimede voleva sapere qual era la circonferenza e qual era l'area di un cerchio di dato raggio. Dunque, anzitutto, Ippocrate qualche secolo prima aveva dimostrato che c'è una costante che lega la circonferenza e il raggio, e c'è un'altra costante che lega l'area del cerchio e il raggio al quadrato. Se c'è una costante che lega la circonferenza e il raggio, c'è anche una costante che lega la circonferenza e il diametro, che è semplicemente il doppio del raggio, questa costante, il rapporto fra la circonferenza e il diametro, viene definito oggi come pi greco e questa è semplicemente una definizione, cioè una delle due costanti si può prendere come unità di misura, tra virgolette. E se la scriviamo appunto riferita al raggio invece che al diametro, verrà semplicemente il doppio. Quindi una formula per la lunghezza della circonferenza, una delle formule che impariamo fin da bambini, è molto semplice ed è che la circonferenza è due volte pi greco il raggio. Ma questa è solo una questione di definizioni su quello che aveva già fatto Ippocrate. Il vero problema è che cosa succede della costante invece che lega il raggio al quadrato all'area del cerchio ed è qui che interviene il genio di Archimede. 2500 anni fa Ippocrate riuscì a dimostrare l'esistenza di un rapporto fisso tra la circonferenza e il diametro di un cerchio valido indipendentemente dalla dimensione di quest'ultimo, il cosiddetto pi greco. Da quel momento trovare il valore della famosa costante ha rappresentato una sfida per i matematici di ogni tempo. Le cifre decimali del pi greco sono infinite e il loro calcolo esatto è sempre stato un'operazione molto complessa. Nella Bibbia il suo valore è indicato semplicemente come tre, ma già i babilonesi e gli egizi ne individuano misure molto più approssimate, precise a meno di pochi millesimi. Il primo a calcolare questo rapporto scientificamente è Archimede. Confrontando il perimetro di due poligoni, uno iscritto e uno circoscritto a un cerchio, lo scienziato scopre che il valore di pi greco è un numero compreso tra 3,140 e 3,142. Il segreto di questo procedimento consiste nell'utilizzo di poligoni con tanti lati. Più aumenta il loro numero, maggiore sarà la precisione del risultato. Sette secoli dopo, il matematico cinese Zhu Chongzi impiega due figure con oltre 20.000 lati, riuscendo così a trovare un'approssimazione di pi greco che si discosta solo di un miliardesimo dal valore reale. Un risultato eccezionale che rimarrà insuperato per oltre mille anni, fino all'inizio del Seicento, quando il tedesco Ludolf van Köhlen ottiene 35 cifre decimali corrette. Una scoperta di una tale portata che lo studioso chiederà di fare incidere quelle 35 cifre sulla propria tomba. Grazie alla tecnologia, oggi si è arrivati a individuare miliardi di cifre decimali del pi greco, la cui importanza non si limita alla sola matematica. La costante è infatti impiegata in tanti ambiti della vita quotidiana. La stabilità degli edifici, le previsioni finanziarie, le capacità di calcolo dei computer. Un ruolo fondamentale per l'uomo, che ogni anno celebra il pi greco con un giorno a lui dedicato nel mese di marzo, il 14. Archimede si rifà ovviamente ai processi mentali di Ippocrate e quindi dice prendiamo un cerchio, gli inscriviamo dentro un poligono regolare con un certo numero di lati, facciamo le fette della torta e poi apriamo questa torta in modo che abbia tante fette triangolari messe una di fianco all'altra. Che cosa succede? Beh, succede che ciascuno di questi triangoli ha la stessa altezza, che è quella che chiameremo l'apotema del poligono che abbiamo inscritto dentro il cerchio. Qual è la lunghezza complessiva di tutte le basi di questi triangoli? Beh, è semplicemente il perimetro del poligono che ci abbiamo messo dentro. Naturalmente, poiché l'altezza è sempre la stessa, invece di avere tanti triangolini possiamo avere un unico triangolino che ha come base il perimetro del poligono inscritto e come altezza la sua apotema. Però questo triangolo, un unico triangolo che corrisponde alla somma di tutti questi triangolini che hanno la stessa altezza, questo triangolo non è equivalente al cerchio perché ne lascia una parte fuori. Noi possiamo però fare dei poligoni con sempre più lati e questo è il pensiero di Archimede, qui sta arrivando la novità della matematica greca che poi cambierà la matematica in seguito e che oggi è diventato uno strumento quotidiano del nostro pensare matematico. Man mano che noi aumentiamo il numero di lati, questo triangolo che abbiamo formato partendo dalle fette della torta, dai triangolini, ha una base che si avvicina sempre di più alla circonferenza del cerchio. È un'altezza che è sì l'apotema del poligono inscritto, ma si avvicina sempre di più al raggio del cerchio. Allora Archimede capisce che poiché si avvicinano sempre di più queste cose, al limite, e questa è la parola fondamentale, la parola d'ordine del nuovo pensiero perché passare al limite significa incominciare ad usare l'infinito che i pitagorici avevano in qualche modo abborrito e rimosso dal loro pensiero, passare ad usarlo in maniera positiva. Archimede capisce che al limite questo triangolo che era formato dalle tante fette di torta si avvicina sempre di più ad un triangolo che ha come base la circonferenza e come altezza il raggio del cerchio. Qual è l'area di questo triangolo? Beh, Archimede dimostra il suo primo grande teorema, cioè che l'area del cerchio è uguale all'area di un triangolo che ha come base la circonferenza e come altezza il raggio. In altre parole, l'area del cerchio è circonferenza per raggio diviso 2. Ma quanto valeva la circonferenza? L'abbiamo detto prima, era 2 pi greco r. Allora il 2 e il 2 scompaiono, il pi greco rimane, r e r diventano r al quadrato ed ecco la prima sua grande scoperta, l'area del cerchio è pi greco r al quadrato se pi greco è definito in maniera tale che la circonferenza sia 2 volte pi greco per il raggio. Per la prima volta queste due costanti che Ippocrate aveva dimostrato esistere, una per la circonferenza e una per l'area, vengono unite perché Archimede capisce che si possono fare processi al limite che sono poi diventate l'ingrediente costitutivo fondamentale di quella che si chiama l'analisi infinitesimale proprio perché l'errore, la differenza tra i poligoni e la circonferenza è sempre più piccola e diventa infinitesima. Abbiamo già a disposizione due formule fondamentali, la prima è una formula banale, la circonferenza di un cerchio è 2 volte pi greco r. La seconda formula invece è un passo enorme avanti perché è il primo grande teorema di Archimede che dimostra che l'area del cerchio invece è pi greco r al quadrato dove pi greco è la stessa costante che c'era nella formula per la circonferenza. Cosa succede per la sfera? La sfera è più complicata perché ovviamente è anzitutto nello spazio a tre dimensioni ma c'è una complicazione in più perché non si può più dividere questa sfera in tante piramidi che sono l'analogo dei triangoli regolari. Perché? Beh lo sappiamo perché di solidi regolari ce ne sono solo cinque quindi la sfera si può approssimare in cinque modi diversi che corrispondono ai cinque solidi e altrimenti non lo si può fare. Qui ci vuole un ingrediente in più e Archimede capisce che si può fare lo stesso trucco che aveva già fatto per il cerchio anche per la sfera solo che nel cerchio si divideva il cerchio in triangolini tutti della stessa altezza e qui invece si divide la sfera con delle piramidi che hanno tutto il vertice nel centro esattamente come i triangolini avevano tutto il vertice nel centro del cerchio che hanno come basi dei poligoni ma che non è detto che debbano essere regolari non ci importa perché a noi non interessano i passi che si fanno in questo processo interessa soltanto il risultato finale quello che abbiamo chiamato al limite quello dove tendono questi procedimenti. A che cosa tende adesso la somma delle basi di tutte queste piramidi? Beh tende alla superficie della sfera. A che cosa tendono le varie altezze in questo caso di queste piramidi che sono però tutti dentro la sfera? Tutte alla fine al limite arrivano ad essere uguali al raggio. Allora Archimede ha rifatto il trucco la seconda volta così come si era accorto che la superficie, l'area del cerchio era uguale all'area di un triangolo equivalente con base circonferenza e altezza raggio cioè circonferenza per raggio diviso 2. Qui capisce che il volume della sfera è equivalente al volume di un cono in questo caso che ha come superficie la somma delle superfici di queste piramidi cioè la superficie della sfera e come altezza il raggio. Qual è adesso il volume di un cono? È l'area della base per l'altezza diviso 3. E allora Archimede capisce che le due costanti della sfera cioè quella che lega il raggio al quadrato con la superficie e il volume al raggio al cubo sono legate fra di loro perché il volume della sfera è la superficie della sfera per il raggio diviso 3. Solo che questa volta a differenza che nella prima e qui ci sono due costanti legate fra di loro ma qual è il legame di queste due costanti che adesso sono diventato una sola con quell'altra di prima del cerchio e qui ci vuole ancora un passo in più. Quindi vedete come i procedimenti mentali di Archimede sono andati molto oltre quelli di Pitagora, di Euclide e così via. Hanno dovuto fare dei passi da gigante. Vedremo tra un momento come queste cose convergono in un unico risultato. Riassumiamo brevemente che cosa abbiamo ottenuto anzi che cosa Archimede ha ottenuto. Anzitutto ha ottenuto il fatto che c'è un legame tra circonferenza e area del cerchio perché l'area del cerchio è equivalente a quella di un triangolo con base la circonferenza e altezza raggio. Poi ho trovato che c'è un legame fra la superficie e il volume della sfera perché il volume della sfera è equivalente al volume di un cono che ha come base la superficie della sfera e come altezza il raggio. Sono praticamente risultati analoghi. Nel primo caso l'area del triangolo è base per altezza diviso 2, nel secondo caso il volume di un cono è base per altezza diviso 3, ma a parte questa differenza le cose sono equivalenti, sono parallele. Però mentre nel primo caso questo ormai determinava le due formule per la circonferenza e l'area del cerchio, qui c'è soltanto un legame fra la superficie e il volume, ma non si capisce ancora quali siano le costanti che intervengono. C'è bisogno di un passo in più. Naturalmente basta determinare o la superficie o il volume perché le due cose sono legate. Per generosità, diciamo così, in due lavori diversi, Archimede una volta ha calcolato direttamente la superficie della sfera e un'altra volta ha calcolato direttamente il volume della sfera per confermare, diciamo così, i risultati che aveva avuto. Nel caso particolare, per calcolare il volume della sfera, Archimede prende la sfera, la taglia a metà come si farebbe con un melone o con un'arancia e ottiene una semisfera e paragona questa semisfera con una scodella cilindrica questa volta. Il cilindro è molto più facile da calcolare perché è un cerchio con un'altezza sempre uguale, solo che ovviamente non possono essere uguali un cilindro alto come la sfera e la semisfera. Bisogna togliergli qualcosa, c'è troppo nel cilindro e allora Archimede toglie un cono che va dentro verso il centro, come una tazza diciamo che ha forma cilindrica esterna e di dentro ha un recipiente, la parte vuota a cono. E poi taglia a fette i due solidi alla stessa altezza e si accorge che quello che viene tagliato nella superficie è esattamente quello che viene tagliato dall'altra parte. Dunque, in altre parole, questa tazza cilindrica con un buco conico è equivalente alla semisfera. Ora è facile calcolare il volume di questa tazza perché il volume di un cilindro basta fare l'area di base per l'altezza, però qui bisogna togliergli un cono e sappiamo qual è il volume del cono, è un terzo di quello che ho appena detto e allora quello che rimane sarà due terzi. Archimede capisce che una semisfera ha come volume due terzi del volume di questo cilindro che è semplicemente base per altezza, cioè superficie del cerchio per il raggio. Se vogliamo avere tutta la sfera bisogna metterne due insieme e allora viene quattro volte quello che si aveva, cioè invece che due terzi, quattro terzi. Ed è qui che salta fuori quella famosa formula che tutti conoscono, cioè il volume della sfera è quattro terzi pi greco r al cubo. E la superficie della sfera che cos'è? Beh, abbiamo detto che era semplicemente l'analogo di un cono, il 3 derivava per l'appunto dal fatto che si divideva per 3 quando si faceva il volume del cono, la superficie della sfera è quattro volte l'area del suo cerchio massimo, cioè quattro volte pi greco r2. Alla fine abbiamo praticamente di fronte a noi quattro formule, sono le quattro formule che abbiamo imparato tutte nelle scuole, ve le ripeto brevemente perché fa bene ripassarle. La circonferenza di un cerchio di raggio r è 2 pi greco r. L'area di un cerchio di raggio r è pi greco r al quadrato. La superficie di una sfera di raggio r è 4 volte pi greco r al quadrato. E il volume di una sfera di raggio r è 4 terzi pi greco r al cubo. Notate che ci sono i raggi, raggi al quadrato e raggi al cubo a seconda che si parli di lunghezze di superficie e di volumi, ma soprattutto c'è sempre la stessa costante pi greco pi greco pi greco pi greco quattro volte moltiplicata per dei numeri che questa volta sono numeri interi come quelli che piacevano a Pitagora, cioè nel caso della circonferenza è 2 pi greco, nel caso dell'area del cerchio è pi greco da solo, nel caso della superficie della sfera è 4 pi greco e nel caso del volume della sfera è 4 terzi pi greco. Questo è un risultato meraviglioso perché quattro risultati diversi che a prima vista potevano essere completamente sconnessi vengono unificati in un unico risultato da Archimede, il quale è ormai felice e passato alla storia. Ricordatevi che vi ho detto che nel suo lavoro sulla misura del cerchio in realtà questi sono soltanto gli inizi di quello che lui aveva fatto, tutto il resto si è perduto e ciò nonostante tutte queste formule sono formule che oggi impariamo a scuola. Forse gli studenti saranno contenti perché se si fosse mantenuto il lavoro di Archimede oggi a scuola dovrebbero imparare chissà quali altre formule. Le quattro formule trovate da Archimede sono considerate dei capisaldi della geometria universale e una testimonianza del genio eccezionale dello scienziato greco. Ma non è solo il risultato ciò che colpisce. Ad estare ammirazione è anche il ragionamento con cui Archimede giunge alle sue scoperte, che combina la ricerca teorica all'applicazione tecnica. Il suo metodo rimane nascosto per secoli in una biblioteca di Costantinopoli. Solo agli inizi del Novecento, infatti, viene ritrovato un manoscritto considerato perduto, il celebre Palinsesto di Archimede, che comprende alcune sue opere, tra cui Il Metodo. In questo testo, scritto sotto forma di lettera, lo scienziato descrive al collega Eratostene il proprio metodo di lavoro, definendolo una strada nuova che, non poca utilità, arreccherà alla matematica. Nel Metodo, Archimede rivela che nelle sue ricerche usa un vero e proprio procedimento di suddivisione, per esempio di un'area in infiniti segmenti, o di un volume in infinite superfici piane sovrapposte. Come metodo dimostrativo, lo scienziato usa quello di esaustione, ideato da Eudosso di Cnido, filosofo seguace di Platone. Partendo da premesse certe, con procedimento deduttivo alla maniera di Euclide, Archimede pone, in forma autonoma, chiara e rigorosa, i suoi risultati. Archimede introduce inoltre un procedimento in forte anticipo sui tempi, partendo dal presupposto che si possono dividere le figure in un numero infinito di parti infinitesime. Per esempio, immagina di dividere un cerchio in infiniti triangoli infinitamente piccoli, arrivando così a calcolare l'area del cerchio. È un procedimento rivoluzionario, antesegnano del calcolo infinitesimale, che verrà messo a punto 1800 anni dopo da Newton e Leibniz. Archimede ora è soddisfatto, ha trovato quattro formule, formule che impariamo fin da bambini nelle nostre scuole, ma non ha ancora finito di lavorare sulla sfera. Anzitutto deve raccontare al pubblico dei matematici i suoi risultati, deve far vedere le dimostrazioni. Purtroppo le dimostrazioni che ha fatto sono dimostrazioni che usano qualcosa che era anatema nella matematica greca, usano il concetto di infinito, un processo al limite che soltanto due millenni dopo poi sarà sdoganato dalla analisi matematica classica, in particolare da Leibniz e Newton e da coloro che verranno dopo. Fino a quel momento i processi che Archimede usava non si potevano divulgare, bisognava tenerli come dei segreti. Ma c'è ancora qualcosa che Archimede ha tenuto in serbo per quanto riguarda i risultati sulla sfera. Perché è vero, ha confrontato il cerchio con un triangolo e la sfera con un cono, ma confrontare la sfera con un cono in fondo non è molto soddisfacente, il cono non è qualcosa di cui noi abbiamo un'immediata percezione. Allora Archimede prova a vedere che cosa succede quando si prende una sfera e la si mette dentro un cilindro che ha esattamente come altezza il diametro. Ha le sue formule ormai, può calcolare esattamente qual è la superficie del cilindro e qual è la superficie della sfera. La superficie della sfera la conosciamo e 4 pi greco era al quadrato. Qual è la superficie del cilindro? Beh, anzitutto è fatta di due cerchi e poi è fatta di una parte intorno che ha come perimetro la circonferenza e come altezza due volte il raggio. Si fanno i calcoli, ma questa volta sono calcoli banali che anche uno studente delle medie può fare, e si accorge di una cosa interessante. Dice, ma guarda, il rapporto fra la superficie del cilindro che contiene la sfera e la superficie della sfera contenuta nel cilindro è un rapporto che si può esprimere attraverso un numero razionale. La sfera è più piccola, sta dentro, quindi ha una superficie più piccola e la superficie della sfera è due terzi di quella del cilindro. Due terzi che sono i numeri che già Pitagora aveva usato, per esempio, nel rapporto di Quinta, vi ricordate? Tre mezzi, quindi due terzi dall'altra parte. Sono gli stessi numeri molto semplici che risaltano fuori in un risultato così profondo come quello della superficie della sfera e del cilindro. Archimede fa un paio di altri calcoletti e si accorge di un'altra cosa, non soltanto la superficie della sfera rispetto a quella del cilindro e due terzi, ma anche il volume. Cioè i rapporti fra le superfici e i volumi sono gli stessi e sono in tutti e due i casi due terzi. Beh, la cosa è troppo bella per non essere veramente soddisfatti. Archimede decide quando morirò la voglio sulla tomba. E allora voglio che qualcuno mi scolpisca, mi faccia l'immagine di una sfera contenuta in un cilindro e ci scriva sopra due terzi. Questo è quello che voglio come mio epitaffio. E infatti così fu. Perlomeno se stiamo a sentire che cosa racconta Cicerone che nel 75, prima della nostra era, divenne questore a Siracusa e quando arrivò aveva sentito parlare di questa leggenda della tomba di Archimede, la fece cercare, la tomba era scomparsa, ad un certo punto fu ritrovata, era coperta di sterpaglia e naturalmente lui la mise e la fece rimettere a posto e la lapide era là con l'immagine della sfera e del cilindro e la scritta due terzi. Come purtroppo succede spesso in queste cose, il fatto di averla riscoperta fece sì che poi alla fine la cosa andò perduta per sempre. Oggi la lapide non c'è più, la tomba si è perduta, ma c'è qualcosa di meglio. Perché ogni quattro anni i matematici si riuniscono per il congresso internazionale di matematica e danno le cosiddette medaglie Fields che sono l'analogo del premio Nobel per la matematica e la medaglia Fields è una medaglia d'oro che sul davanti ha l'immagine di Archimede o perlomeno una faccia di un greco barbuto che potrebbe essere Archimede e sul retro ha inciso questa immagine del cilindro con la sfera dentro che viene considerato praticamente dai matematici e forse uno dei più bei risultati che siano mai stati trovati. Un numero molto semplice che lega fra loro due figure così diverse come la sfera e il cilindro che la contiene. Naturalmente i matematici come Archimede e tutti coloro che vengono dopo sono soddisfattissimi di questi risultati. C'è però la gente comune che si chiede ma a che cosa servono queste cose? A parte il fatto che con la matematica non bisognerebbe mai fare queste domande perché la matematica è come chiedere che cosa serve la quinta sinfonia di Beethoven? Serve perché qualcuno la va a sentire e la matematica è uguale quando qualcuno guarda le formule di matematica può avere un piacere sublime esattamente come quello che si può avere per un melomane sentendo una sinfonia di Beethoven o una fuga di Bach. Però a differenza della musica naturalmente la matematica è uno strumento ed è lo strumento di tutte le scienze a partire dalla fisica alla chimica oggi anche la biologia e l'informatica. Senza la matematica si va poco lontano anzi non ci si muove proprio e questi sono i rudimenti diciamo così della matematica se voi avete un tubo se siete un idraulico per esempio e beh naturalmente quello che vorreste fare è per esempio saper calcolare la portata dell'acqua che questo tubo può fare la portata dell'acqua è proporzionale alla sezione del tubo e la sezione ha un'area e quest'area si calcola così come Archimede ci ha insegnato con pi greco r al quadrato volete fare dei cuscinetti a sfera per esempio che come dice il nome hanno delle sfere dentro ebbene queste sfere hanno una superficie che deve circolare entro i cuscinetti hanno dei volumi che poi corrispondono al loro peso se vuole calcolare il peso di una sfera basta fare il volume per il peso specifico e così via le applicazioni di queste cose sono naturalmente illimitate perché la scienza usa come linguaggio la matematica però c'è un piccolo problema perché questo pi greco noi l'abbiamo sì definito come il rapporto fra la circonferenza e il diametro ma quello non è un numero se noi vogliamo calcolare appunto il tubo il cuscinetto a sfera eccetera dobbiamo avere dei numeri Archimede si pone il problema dice ma se io volessi approssimare il numero pi greco come posso fare a farlo? beh naturalmente pi greco non era un'invenzione sua il rapporto fra la circonferenza e il diametro del cerchio era una cosa che fin dall'antichità si erano posti tutti coloro che volevano usare la matematica a fini concreti per esempio gli egizi i babilonesi e così via gli egizi avevano dei metodi molto semplici per cercare di calcolarle per esempio si erano accolti che se uno prende 64 monete e le mette in una disposizione quadrata 8 per 8 ottiene un quadrato per l'appunto la cui area è ovviamente 64 e se però prende queste 64 monete e le ridispone mettendone una al centro e le altre intorno quello che si forma è un cerchio praticamente approssimato dalle monete in cui però ce ne sono 9 come diametro in altre parole un quadrato di lato 8 monete è equivalente all'incirca a un cerchio di diametro 9 se uno fa i calcoli tra l'area del quadrato il rapporto tra l'area del quadrato e l'area del cerchio pi greco e r quadrato si accorge che il pi greco che salta fuori da questa semplice ridisposizione di monete è 3,16 quindi questa è un'approssimazione che sia 3, qualcosa si vede a occhio basta prendere un cordino e metterlo intorno a una colonna circolare un cordino che è largo come il diametro si vede che ci sta tre volte e un pezzo quindi è 3, qualcosa ma il problema è che cosa questo qualcosa e allora Archimede dice voglio calcolarlo precisamente come faccio però bisogna ritornare al procedimento che aveva già usato agli inizi di approssimare il cerchio attraverso dei poligoni e incomincia a dire beh certo che se metto un cerchio dentro un quadrato per esempio questo quadrato ha come lato il diametro cioè 2 volte il raggio e quindi 2 volte il raggio per 2 volte il raggio l'area del quadrato è 4 volte R al quadrato se ci metto dentro un esagono invece il quadrato era fuori e beh mi accorgono che l'esagono ha come diametro 2 volte il lato dei triangolini che costituiscono l'esagono e mi accorgo che in quel caso l'approssimazione è 3 oh di Cerchimede ho un cerchio dentro ci metto un esagono che è più piccolo e la sua area è 3 fuori ci metto un quadrato che è più grande e la sua area è 4 vuol dire che pi greco cioè l'area del cerchio quando il raggio è uguale a 1 e compreso tra 3 e 4 e però quanto tra 3 e 4 e allora quello che fa Archimede dice beh qui bisogna naturalmente cercare di usare dei poligoni con più lati per avvicinarcisi meglio e allora mette un esagono dentro e uno fuori poi moltiplica e ottiene un dodecagono cioè 12 lati poi moltiplica e ottiene un poligono con 24 lati dentro e fuori poi con 48 poi con 96 notate che faceva questi calcoli sulla sabbia ovviamente senza avere le calcolatrici quindi dove approssimare frazioni apoteme aree perimetri eccetera tutto a mano e ad un certo punto si accorge che quando è arrivato a 96 lati dentro e 96 fuori l'area del poligono dentro e l'area del poligono fuori sono diverse ovviamente perché una sta fuori l'altra sta dentro e il cerchio sta in mezzo ma quando le si scrive con dei numeri le prime due cifre dopo la virgola sono le stesse dentro e fuori il che vuol dire che il cerchio è compreso fra il poligono fuori e il poligono dentro e le prime due cifre sono le prime due cifre corrette di pi greco approssimato pi greco a un centesimo praticamente del suo valore e quali sono queste cifre sono quelle che tutti noi conosciamo 3,14 che non è il valore di pi greco ma è la seconda approssimazione la seconda cifra dopo la virgola di un numero che in realtà continua all'infinito e che poi nel corso dei secoli è stato calcolato fino a milioni di cifre oggi lo sappiamo calcolare a qualunque cifra ma senza averle mai tutte perché sono per l'appunto infinite e non si ripetono mai il numero non è irrazionale insieme ai due risultati sul cerchio questo terzo risultato l'approssimazione di pi greco era il terzo risultato di quelli che ci sono rimasti di quel lungo lavoro di cui tutto il resto è andato perduto quindi pensate anche questo 314 che è famosissimo ormai qualunque ragazzo pensa di sapere che quello è il valore di pi greco anche se non sa forse che è solo una prima approssimazione però tutto il resto è andato perduto e questa è la tragedia forse dell'antichità molte delle cose che i pensatori i letterati i poeti i filosofi i greci hanno scritto così come in altre civiltà sono andate perdute per fortuna qualche cosa ci è rimasta e questi sono alcuni dei gioielli della matematica greca e di Archimede in particolare a un matematico che abbia dimostrato le quattro formule più importanti della geometria sul cerchio e sulla sfera cosa rimane da fare un po' la domanda che si poneva Borges che si immedesimava ovviamente nei suoi simili quindi con un altro letterato cioè con Dante e si chiedeva ma dice quando Dante ha preso la penna e ha scritto l'ultimo verso della Divina Commedia l'amor che muove il sole e le altre stelle punto e adesso cosa può scrivere uno come Dante che ha finito la Divina Commedia cosa poteva fare Archimede dopo aver dimostrato queste meravigliose formule e parecchie cose perché tra i matematici e i letterati c'è ancora molta differenza una delle cose che si pone Archimede dopo questi lavori è di dire ma dunque noi siamo in Grecia e noi poveri greci abbiamo una lingua che oggi a coloro che fanno liceo classico appare insuperabile eccetera ma che in realtà aveva le sue grandi limitazioni in particolare nella matematica per esempio non aveva nomi per grandi numeri il massimo numero che veniva nominato direttamente da una parola della lingua greca era miriade noi continuiamo ancora oggi ad usare miriade per dire un grande numero ma miriade non era poi tanto grande era 10 alla quarta cioè 10.000 per dire 100.000 bisognava naturalmente dire 10 miriade per dire un milione bisognava dire 100 miriadi e cominciare così quando poi si arrivava a 10 alla quarta 10 alla quarta cioè 10 all'ottava 100 milioni bisognava dire una miriade di miriadi e poi si poteva dire una miriade di miriade di miriadi ma quando uno continua a ripetere miriadi per una miriade di volte si perde il conto dopo un po' se uno volesse fare dei grandi calcoli Archimede si poneva naturalmente molto all'avanguardia rispetto a ciò che erano i calcoli che forse potevano servirgli all'epoca ma lui pensava di costruire gli strumenti per i matematici del futuro e allora si pone anzitutto un problema e lo scrive al tiranno Gerone che era colui che gli dava diciamo così le borse di studio o che finanziava meglio le sue ricerche in particolare perché era interessato agli armamenti ma comunque allora gli scrive questa lettera e gli dice caro tiranno dice mi è venuta questa idea dice quando noi guardiamo le nostre belle spiagge greche queste spiagge hanno questa sabbia così fine ti viene mai in mente di chiederti ma quanti sono i granelli di sabbia della spiaggia dove tu sei sono un'enormità basta prendere un cucchiaino e cominciare a vedere i granelli sono piccolissimi e noi dobbiamo contarli dicendo miriade di miriade di miriade di miriade per un cucchiaino ma se poi vogliamo in realtà calcolare quanti sono i granelli di sabbia che stanno sulla spiaggia del palazzo reale per esempio la cosa andrebbe molto a lungo ma Archimede è un matematico non si preoccupa della spiaggia o nemmeno dice delle spiagge di tutto il mondo dice supponiamo di voler calcolare il numero di granelli di sabbia che riempirebbero l'universo intero quanti sarebbero quante volte dovremmo dire miriade e cosa ci servirebbe perché intanto se anche ne diciamo cento volte più o cento meno non cambierebbe niente perdiamo il conto e allora si pone questo problema di come è possibile nominare i grandi numeri anzitutto per calcolare il numero dei granelli di sabbia che stanno dentro l'universo e questa è una delle applicazioni bisogna anzitutto calcolare qual è il volume dell'universo e poi fare un rapporto su il volume di un granello di sabbia ora tanto quanto che un granello di sabbia lo si può approssimare uno può immaginare quanto sia grande ma l'universo quanto è grande e allora per calcolare qual è il volume dell'universo Archimede usa una teoria ed è l'unica testimonianza che noi abbiamo di questa teoria perché è una teoria di un signore che si chiama Aristarco un signore di cui non sapremmo nulla se non ci fosse rimasto questo breve accenno che Archimede fa nel suo lavoro e lui dice c'è uno che se le intende di queste cose che pensa che l'universo notate siamo circa nel 200 prima della nostra era dice uno che si intende di queste cose e che pensa che l'universo abbia al centro e tutti aspettano dice certo la terra no il sole e noi diciamo ma come ma il sistema egliocentrico non se l'è inventato Copernico Galileo non è stato processato nel 1633 cioè quasi 2000 anni dopo per aver detto che il sole stava al centro dell'universo eppure invece c'era stato un signore di nome Aristarco che prima di Archimede aveva già detto ma il sole sta al centro dell'universo e se noi vogliamo calcolare qual è il volume dell'universo abbiamo una sfera al cui centro sta il sole e come facciamo a sapere qual è la dimensione di questo universo beh bisogna fare la proporzione tra la sfera dell'universo e la sfera del sole e la sfera del sole per esempio è la sfera della terra con due proporzioni si riesce a calcolare il volume di questa enorme sfera come? con la formula che Archimede conosceva benissimo 4 terzi più greco era al cubo Archimede fa i suoi calcoli ottiene un risultato che noi oggi diremmo facilmente perché noi usiamo una notazione esponenziale in base 10 10 alla 63 quanti sono secondo Archimede e secondo l'immagine che i greci come Aristarco avevano dell'universo antico i granelli di sabbia che riempirebbero l'universo sono un 1 seguito da 63 zeri che è un numero grande ma insomma non eccessivo se oggi voi voleste fare il calcolo diciamo poverini questi greci non è che si immaginavano un universo veramente come era oggi noi sappiamo che l'universo è una sfera enorme sono passati 14 miliardi di anni e questa è la nostra sfera e poi il granello di sabbia è pur sempre una cosa enormemente grande perché non prendiamo qualcosa di più piccolo per esempio un elettrone che è una delle particelle più piccole tra quelle che costituiscono la materia nell'accezione comune della chimica cioè elettroni protoni neutroni quanti sono gli elettroni che riempirebbero un universo grande come noi oggi sappiamo che è o ce lo immaginiamo beh la cosa interessante è che sì certo sono molti di più che i granelli di sabbia dell'universo dei greci però non tantissimi di più sono circa 10 alla 200 cioè un 1 seguito da 200 0 pur sempre un numeretto così ma prima di arrivare a questo risultato Archimede che non era tanto interessato al risultato in sé perché poi insomma chi se ne importa di quanti sono i granelli di sabbia che potrebbero riempire l'universo quello che lui voleva era sviluppare un sistema di notazioni per i grandi numeri e allora quello che fa è analogo a quello che fanno oggi gli informatici con le loro gerarchie di funzioni che crescono via via in maniera loro parlano di esponenziale Archimede parte da una miriade e poi fa una miriade di miriade una miriade di miriade di miriade eccetera e itera questo miriade di miriade per una miriade di volte quando arriva alla miriadesima volta il risultato lo prende e lo porta agli inizi di un secondo conteggio e incomincia di nuovo a fare una miriade di questo numero una miriade di miriade di questo numero e arrivare di nuovo alla fine delle miriade e poi lo fa una terza volta una quarta e una quinta e lo fa quante una miriade di volte e poi va avanti sulla diagonale e arriva a questo numero e questo è il grande numero che lui riesce in qualche modo a gestire attraverso il suo sistema di notazione è quello che oggi noi scriveremmo come 10 elevata a 10 elevata alla 17 ora questo non è più tanto semplice da fare perché un 10 elevato a 10 alla 17 che cosa significa che c'è un 1 seguito da 17 zeri e 10 dobbiamo farlo elevato a questo numero quindi un numero veramente stratosferico che nella matematica moderna è stato superato in realtà pensate soltanto nel 1933 da un teorico dei numeri che ha dovuto usare in uno dei suoi calcoli un numero maggiore di quelli di Archimede per il resto per 2000 anni quel sistema di notazione è rimasto in vigore la ricerca sui grandi numeri di Archimede è un tema completamente differente rispetto alle misurazioni del cerchio e della sfera che ne hanno decretato un posto nella storia ma è mossa dallo stesso impulso tipico del genio curioso che affronta un problema per il fascino della sfida intellettuale che esso comporta un altro dei problemi geometrici che appassiona Archimede è quello delle spirali a cui dedica un trattato che è pervenuto fino a noi gli esseri umani fin dalla preistoria sono stati affascinati da questa forma dinamica che si avvolge e si svolge in un movimento che insieme porta verso il centro e se ne allontana simboli a forma di spirale si ritrovano presso quasi tutte le culture del mondo dai nativi americani ai celti dal mondo mediterraneo alle religioni indiane a indicare il moto del sole o il ciclo della vita e della morte nel mondo degli animali la forma a spirale si può riconoscere nello schema della tela del ragno l'avvolgimento che unisce i raggi principali di una ragnatela è appunto una spirale come quella studiata da Archimede se poi estendiamo lo sguardo oltre la biologia all'universo inanimato scopriamo che la galassia in cui è contenuto il nostro pianeta è una spirale lo scienziato greco riuscì a calcolare l'area del primo giro della spirale con metodi che anticipano la geometria differenziale moderna per Archimede e per molti matematici dopo di lui la spirale ha rappresentato una sfida scientifica appassionante ma per l'umanità intera questa forma è rimasta il simbolo per millenni di un affascinante mistero del cosmo Cosa rimane ad Archimede da fare dopo aver risolto i più importanti problemi sul cerchio e sulla sfera che erano considerati come da una parte le figure più perfette ma dall'altra parte anche le più difficili da maneggiare e da calcolare ci sono altre figure che i geometri potrebbero essere interessati a conoscere altro che in realtà Euclide non ne parla e quindi nella geometria tra virgolette elementare di queste figure non si fa menzione però Euclide ha scritto un trattato su queste figure che si chiamavano all'epoca sezioni coniche questo trattato è andato perduto ed è poi confluito in un trattato successivo di un contemporaneo più o meno di Archimede che si chiamava Apollonio un famoso trattato sulle coniche che poi per esempio Newton in seguito userà perché era l'analogo per queste figure e quello che Euclide aveva fatto per i poligoni e il cerchio e la sfera cosa sono queste sezioni coniche beh come dice la parola sono sezioni che si ottengono tagliando un cono immaginate di avere proprio un cono come quelli gelati e questo cono voi potete prendere un coltello e tagliarlo in tanti modi potete tagliarlo di sbieco così e viene fuori una sezione che come potete immaginarvi è semplicemente un cerchio che è quello che avete quando togliete l'involucro del cono potete però tagliarlo leggermente di sbieco e in quel caso il cerchio si deforma un pochettino e viene un cerchio allungato che si chiama ellisse potete tagliarlo per diritto questo cono e viene semplicemente un pezzo che si chiama parabola e poi potete ancora andare oltre e allora vengono due pezzi se il cono continuasse anche di sotto di una curva doppia che si chiama iperbole ci sono tre nuove figure l'ellisse la parabola e l'iperbole in realtà di ellissi ce ne sono tante perché l'ellisse può essere più o meno schiacciata il cerchio è una particolare ellisse in cui i due assi o i due semiassi coincidono poi c'è la parabola che invece è una sola che divide le due grandi famiglie da una parte dell'ellisse e dall'altra parte dell'iperbole di nuovo dove ce ne sono parecchi e Archimede dice ma potremmo chiederci per esempio quali sono le aree i perimetri di queste figure nel caso nel caso dell'ellisse è possibile perché l'ellisse è una figura chiusa quindi ha un'area chiude un'area ben definita e stranamente una volta che uno ha trovato l'area del cerchio pi greco r al quadrato non è difficile trovare l'area dell'ellisse l'ellisse è un cerchio schiacciato quindi ha due raggi un raggio minimo e un raggio massimo che si chiamano semiassi chiamiamoli a e b per esempio nel caso che i due semiassi siano uguali allora si ottiene un cerchio e l'area del cerchio è pi greco r al quadrato si può immaginare che l'area dell'ellisse sia pi greco a b nel caso che a b siano tutti e due il raggio diventa raggio al quadrato e in effetti questo è quindi l'area dell'ellisse è una conseguenza semplicemente dell'area del cerchio ed è facile da calcolare la circonferenza cioè la lunghezza del perimetro diciamo così del bordo del cerchio è anche quella facile da calcolare 2 pi greco r e nel caso dell'ellisse qui è più complicato perché mentre nel caso dell'area c'erano due r e quindi uno poteva fare uno dei due assi i due semi assi nel caso del 2 pi greco r ce n'è uno solo quindi quale si usa non si può usare certamente nel più grande nel più piccolo forse una media non si sa bene beh il problema di calcolare le lunghezze delle dell'ellisse e degli archi di ellisse è un problema molto difficile che fu risolto poi a partire da newton fu newton che introdusse quelle che oggi si chiamano le funzioni ellittiche e che servono appunto per calcolare le lunghezze dell'ellisse e dei suoi pezzi dei suoi archi quindi questo è un problema facile da dire ai tempi di Archimede ma difficile da risolvere anche per Archimede perché fuori della sua portata non ha ancora sviluppato a sufficienza i metodi del calcolo infinitesimale che ha cominciato ad usare già per il cerchio e per la sfera ma ci vorranno secoli di avanzamento tecnologico per poter arrivare alla soluzione del problema della lunghezza dell'ellisse nel caso dell'iperbole e anche qui l'iperbole ce ne sono di vari generi ma se noi le mettiamo con i loro asintoti retti sappiamo tutti anche l'equazione dell'iperbole per esempio che è abbastanza semplice y uguale a 1 su x per esempio oppure 2 su x eccetera anche nel caso dell'iperbole ci sono dei problemi perché anzitutto uno può anche cercare di calcolare l'area però questa iperbole è una figura infinita è aperta quindi l'area è probabile è possibile che vada all'infiniton difficile da calcolare di nuovo bisognerà aspettare 1600 sempre l'analisi perché si possano calcolare le aree di segmenti di iperboli tra l'asse di riferimento e sotto la curva come mai non si potevano calcolare all'epoca di Archimede beh per una cosa molto interessante perché le aree che l'iperbole definisce rispetto agli asintoti sono logaritmi anzi questo è uno dei modi per definire il logaritmo se lo si vuole fare in maniera analitica invece che in maniera algebrica attraverso le potenze della base e quindi vedete che figure semplici come quelle che i greci si erano inventati tagliare un cono attraverso un coltello provocano dei problemi che richiederanno migliaia di anni per essere risolti ma manca una figura di ellissi ce ne sono tante di iperbole ce ne sono tante di parabole ce n'è una sola e Archimede dice chissà che non riesca a calcolare il valore della parabola dell'area di parabola anche questa la parabola è una figura infinita quindi non si può calcolare tutto però uno può tagliarla ad un certo punto e poi può confrontarla per esempio con il rettangolo che contiene quel pezzo di parabola c'è la parabola così un pezzettino un rettangolo qual è il rapporto fra l'area della parabola e l'area del rettangolo che la contiene notate che è lo stesso trucco che Archimede ha già usato per la sfera qual è il rapporto tra la superficie e il volume della sfera e il cilindro che la contiene qui si tratta di parabola e rettangolo che la contiene Archimede deve inventarsi un metodo per farla questa volta non si può più approssimare tanto facilmente questo segmento di parabola bisogna farlo con triangoli la cosa è complicata si inventa un metodo che è un metodo a bilancia cioè pesa delle figure geometriche e allora usando il principio della leva usando le bilance Archimede riesce a pesare le aree dei segmenti di parabola e dei rettangoli che le contengono qual è il risultato tenetevi forte il risultato è due terzi siamo di nuovo agli stessi numeri che erano coinvolti dentro il risultato della sfera e del cilindro Archimede è soddisfatto perché ormai di tombe ne può avere una sola però insomma il due terzi funziona poi anche per la parabola e questo è di nuovo uno degli avanzamenti che Archimede ha permesso di fare nei confronti di una delle sezioni iconiche in particolare la parabola e anche dell'ellisse perché quella deriva dal cerchio può essere interessante notare che le sezioni iconiche di cui abbiamo parlato cioè l'ellisse la parabola e l'iperbole in realtà erano anche figure letterarie i greci le usavano queste parole anche per indicare eccesso difetto e equanimità diciamo non soltanto nella formazione di curve geometriche ma anche nel discorso e allora un discorso ellittico per esempio lo usiamo anche noi è quando gli manca qualche cosa troppo conciso forse un discorso iperbolico quando invece si esagera e la parabola invece dovrebbe essere qualche cosa di equilibrato ci sono stati i profeti del passato che hanno parlato in parabole molti che hanno parlato in iperboli pochi purtroppo in ellissi molti però degli orientali e gli orientali sono più propensi all'ellissi nel discorso di quanto invece noi occidentali non siamo propensi all'iperbole ma ne voglio fare anch'io una di iperbole in questa nostra chiacchierata perché tra tutti questi risultati che Archimede ha lasciato in eredità all'umanità i discorsi sulla sfera sui grandi numeri sulle sezioni iconiche eccetera tutti questi impallidiscono rispetto a quello che sicuramente ha più cambiato la storia dell'umanità un discorso matematico che ha coinvolto praticamente milioni miliardi di persone che continua tuttora a coinvolgere una breve premessa per arrivare alla spiegazione di questa iperbole che sto facendo su Archimede è che abbiamo detto Teeteto aveva dimostrato questo grande teorema che classificava e classifica i solidi regolari ci sono solo 5 solidi che hanno tutte le facce uguali e tutte a poligono regolare arriva Archimede e qui si trova spiazzato perché c'è uno che ha detto che in quel campo non si può fare altro i solidi regolari sono quelli non ce ne sono altri sono 5 soltanto si chiamano solidi platonici perché Platone poi li usò nel suo famoso dialogo Timeo come fondamento della sua visione pitagorica in realtà della natura Platone ci dice o immagina che gli elementi dell'antichità che sono aria acqua terra e fuoco siano in realtà formati abbiano una struttura geometrica che è quella di 4 solidi regolari cioè i 4 che conosciamo meno il dodecaedro che secondo Platone invece identificava l'universo ora la cosa interessante è che Platone in qualche modo intravede la formulazione della chimica moderna prendiamo per esempio la forma dell'acqua che tutti conoscono l'acqua è H2O cioè ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno che formano una molecola d'acqua ora nel caso di Platone l'acqua è identificata come struttura con un icosaedro l'idrogeno invece viene identificato come fuoco con l'ottaedro e l'aria viene identificata l'ossigeno con un tetraedro ed è Platone che dice beh la cosa interessante è che poiché l'ottaedro ha 8 facce il tetraedro ne ha 4 e l'icosaedro ne ha 20 ci vogliono due ottaedri 8 più 8 più un tetraedro 4 per fare un icosaedro 20 facce triangolari ed è esattamente quello che noi diciamo quando diciamo che l'icosaedro cioè l'acqua è composta da due ottaedri due atomi di idrogeno e un tetraedro un atomo di ossigeno questa è una cosa sorprendente Heisenberg nel suo libro Fisica e filosofia dice vabbè insomma questo gli è andata bene semplicemente perché ha fatto un esempio coi triangoli e la cosa funziona così però effettivamente nella chimica oggi succedono queste cose le molecole spesso hanno una struttura che è una struttura geometrica e in maniera molto più complicata ovviamente che questa accennata da Platone si trasformano una nell'altra e costituiscono attraverso i loro componenti delle molecole più complesse ma dicevo a parte questi solidi che vengono chiamati platonici proprio per questo motivo perché li usò Platone nel timeo ci sono altri 8 solidi che non sono regolari ma sono semi regolari in che senso nel senso che usano come loro faccia soltanto dei poligoni regolari ma non sempre lo stesso a volte di due tipi a volte anche di tre e chi li ha trovati questi solidi naturalmente Archimede il quale voleva allargare la sua percezione e come li ha trovati beh per esempio il modo più semplice è quello di prendere i solidi normali come questo e tagliargli le punte vedete che cosa succede quando si taglia una punta a una piramide di questo genere viene fuori naturalmente un quadrato e di qui che cosa succede rimangono tre lati che dall'altra parte diventano altri tre diventano sei quindi tagliando le punte agli ottaedri si formano dei solidi che per esempio possono avere facce quadrate oppure esagonali a seconda di dove si fa il taglio ebbene uno di questi solidi più complesso di tutti naturalmente è l'icosaedro Archimede taglia le punte all'icosaedro e che cosa succede l'icosaedro è fatto di tanti triangoli che convergono nei vari vertici ce ne sono cinque che convergono per ogni vertice quando si taglia il vertice rimane un pentagono e dall'altra parte rimangono degli esagoni cioè si forma un solido che ha 60 vertici e che ha 12 facce pentagonali e ne ha 20 esagonali è un solido meraviglioso che la natura ha scoperto per conto suo e in natura questa cosa si chiama fullerene Buckminster fullerene perché è una molecola che è stata scoperta in alcune galassie i tre chimici che l'hanno scoperta una ventina di anni fa hanno ottenuto premio Nobel per la chimica per questo ed è una molecola fatta solo di carbonio 60 atomi di carbonio che sono collegati insieme a formare facce pentagonali ed esagonali e voi direte ma è questo sì va bene certo è un grande risultato ma è quello che ha cambiato la storia dell'umanità beh non è quello ma è il fatto che questa stessa molecola questo stesso icosaedro troncato sulle punte è esattamente il pallone da calcio come è fatto il pallone da calcio beh vi ricorderete adesso forse sono fatti in maniera un po' diversa ma quello classico era fatto con delle pezze diciamo esagonali con delle pezze pentagonali colorate di bianco e nero ecco questo è il risultato di Archimede che sicuramente ha più cambiato il mondo quasi nessuno di coloro che si sfogano di fronte alla televisione una volta ogni domenica oggi credo a ogni ora della giornata e della notte a guardare partite durante i campionati di calcio eccetera quello che rotola per terra quello che viene preso a calci dei calciatori è in realtà uno degli oggetti più belli della matematica è un oggetto che è stato trovato da uno dei più grandi geni della matematica che si chiama Archimede quell'oggetto si chiama icosaedo troncato ed è appunto il pallone da calcio grazie a tutti grazie a tutti